E state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi, a 24.000 iscritti facciamo una bella live, mi raccomando, e qui sotto il link con il video di podcast di Marco Mambassen, guardate se non lo avete ancora visto. Allora ragazzi, novità di mercato, c'è stato l'incontro tra la Milan e l'Udinese per Samaric, per cercare di capire anche quali possono essere le contropartite, anticipazioni di CM, il Milan si è sentito chiedere uno tra Colombo, Bartesaghi e Zeroli, no secco del club rosso-nero, con Colombo che è in procinto di andare all'Empoli in prestito. Con diritto di riscatto e possibilità del Milan comunque di controllarlo. Zeroli, Under-23, capitano, giocatore che promette benissimo, ci mancherebbe altro che lo fai partire, e l'altro è Bartesaghi che abbiamo visto anche lo scorso anno in qualche apparizione al Milan, prima squadra. No del Milan che quindi non è disposto a inserire queste contropartite. Magari dopo la vicenda legata a Brescianini, oggi ci si mangia un po' le mani, hai paura di fare gli stessi errori. Tra i tre, ecco, forse Bartesaghi, non lo so, qualcuno mi dice essere un giocatore normale, anche se si è già visto in prima squadra. Detto questo, poi vediamo quali sono le evoluzioni. Attenzione poi a un'altra indiscrezione che arriva dall'Inghilterra, spero che non abbia sviluppi, secondo Sky, UK, Fofana è nel merino del Manchester United. Spero tanto che non sia così, riportiamo il lancio, tra i profili seguiti dallo United per il centrocampo c'è anche Yusuf Fofana, che è vicino al Milan ma non è ancora arrivato. Ecco, spero di non vedere i fantasmi di un caso del recente passato finito male, purtroppo, per noi. Ditemi che ne pensate delle contropartite richieste dall'Uninese e anche di questo discorso Fofana, in fretta ragazzi, perché altrimenti ce lo soffiano. Commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi e guardate il video podcast di Marco Van Basten, qui sotto c'è il link. Un abbraccio a tutti, forse più tardi o domani ci vi rivediamo. Un saluto.